Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa prima della sfida a Pisa, iniziamo da Ferralpisalo TV. Buongiorno mister, comincerei col farle congratulazioni ad Andrea Lamantia e alla sua famiglia che proprio stamattina hanno avuto un bambino. Sì, mi aggiungo anch'io insieme a tutta la squadra ovviamente, grandi congratulazioni ad Andrea, alla mamma soprattutto che è la protagonista e un grande benvenuto a Ludovico che è arrivato fra di noi e quindi abbiamo sicuramente un tifoso in più. Ok, passando a Pisa, ci aspetta un ambiente bollente ma abbiamo già dimostrato di saper sopportare le pressioni importanti anche. Sì, dobbiamo continuare a farlo, quindi la sfida è proprio questa perché ovviamente nelle ultime uscite fuori casa abbiamo fatto delle buone prestazioni in campi difficili però come diciamo sempre è logico che bisogna continuare, troveremo un'altra squadra molto attrezzata in un contesto importante e quindi dovremo fare un altro step in avanti, dimostrare maturità nella gestione di tutte queste cose perché ovviamente per portare via un risultato positivo da un campo del genere bisogna fare una grande prestazione. Tre vittorie esterne consecutive e solo un paio di altre squadre sono riuscite a fare quattro vittorie di seguito quindi gioca a poker. Come ho detto sappiamo che andremo ad affrontare una squadra importante sul loro campo e quindi come ho detto prima bisognerà fare una grande prestazione perché è una squadra molto orgogliosa organizzata, allenata bene che soprattutto nella fase di possesso palla hanno delle giocate precise, si muovono molto bene e abbinano questa organizzazione di gioco anche a delle individualità importanti, a maggior ragione anche nel reparto offensivo e quindi è logico che come ho detto prima siamo consapevoli che per fare un risultato positivo dovremo fare una grande partita. Però il Pisa è privo addirittura di tre difensori, ha un sacco di attaccanti e nessun difensore, potrebbe essere... Sì però ha tanti giocatori che comunque anche già durante l'anno si sono adattati a fare i difensori e lo fanno molto bene perché hanno caratteristiche per poterlo fare quindi da questo punto di vista a noi ci cambia poco perché come ho detto sono una rosa completa, una squadra che gioca bene quindi da questo punto di vista non ci cambia molto. Mentre invece la Ferral Pissalò ha qualche problema al centrocampo, là mancano i difensori, qua i centrocampisti. Vabbè ma adesso da un punto di vista degli infortuni eccetera abbiamo recuperato praticamente tutti a parte ovviamente di Molfetta che ha avuto questo infortunio a Cremona, Balestrero è ormai sulla via del recupero quindi anche noi da questo punto di vista comunque siamo riusciti a recuperare questi giocatori, quasi tutti perché poi come ho detto in questo finale di stagione ovviamente sarà importante avere la rosa il più completa possibile. Ma Balestrero potrebbe giocare o viene solo aggregato? No, in questo momento sicuramente dall'inizio no, adesso sta procedendo con questo recupero, tutti gli esiti sono tutti positivi però da qui a entrare dall'inizio ancora è presto però ormai è sulla via del recupero. E viene a Pino? Sì, adesso dovremmo fare le valutazioni anche domani però potrebbe essere aggregato non per partire dall'inizio. per vedere la torre insomma e per quanto riguarda gli altri infortunati solo questo, insomma solo di Molfetta. Sì, sì, sì. Ok, va bene. Misterle chiedo se i quattro punti ottenuti tra Cremonese e Cosenza la soddisfano oppure magari quel vantaggio per 2-1 sul Cosenza avrebbe potuto portare a qualcosa in più? No, beh, ma soddisfano assolutamente perché comunque abbiamo fatto secondo me complessivamente due buone partite come ho detto anche nel dopogara è logico che la partita con Cosenza è stata una gara difficilissima da giocare e vuoi per l'aspetto come diciamo sempre tecnico perché giocavamo contro una squadra secondo me molto attrezzata però era difficilissima anche da un punto di vista, come ho detto, emotivo e nervoso quindi in considerazione di queste difficoltà la gara si era incanalata nella maniera giusta e c'è un po' il rammarico di aver preso questo secondo gol in un momento della partita che diceva che potevamo essere in controllo della partita quindi il rammarico è un po' questo che però ci sta, lo dobbiamo accettare ci deve servire come insegnamento per il proseguo però complessivamente, ripeto, le due gare le abbiamo giocate nella maniera corretta in considerazione poi delle difficoltà della partita e del momento che stiamo vivendo Avete rivisto le immagini della partita del Pisa con il Brescia e le chiedo, prenderete spunto da quello che ha fatto il Brescia per battere il Pisa? Il Brescia è una squadra che sta facendo molto bene, è una squadra in grande condizione poi comunque il risultato è venuto fuori un risultato pesante però per larghi tratti della partita c'è stato molto equilibrio come avviene sempre in tutte le gare che ormai si giocano da qui alla fine dove anche le differenze di classifica si notano meno perché subentrano più aspetti anche nervosi ed emotivi però, ripeto, secondo me, poi gli episodi hanno condannato di più il Pisa però è stata una partita, come ti ho detto, a larghi tratti equilibrata dove il Pisa comunque ha dimostrato, secondo me, di essere dentro la gara certamente l'abbiamo guardata, ma più che altro per capire sempre meglio quali sono le qualità degli avversari che, come ho detto, secondo me sono un'ottima squadra Per quanto riguarda la formazione, lei da gennaio ad oggi non ha mai confermato per tre partite consecutive il time d'attacco L'amantia e Dubicas sono a due Pensa di confermarle ancora e per quale motivo, semmai? Adesso dobbiamo ancora, ti ho detto, fare alcune valutazioni nell'allenamento di domani però in linea di massima anche molte scelte dipendono tante volte proprio dalla condizione del momento e anche dalle caratteristiche un po' degli avversari la cosa però che si nota ed è evidente è che soprattutto in determinati ruoli i due attaccanti fanno parte di quello che sto dicendo è logico che partono due poi durante la partita entrano sicuramente anche altri proprio perché le partite da qui alla fine sono sempre più dispendiose da un punto di vista sia fisico perché adesso non dimentichiamoci che ti può saltare fuori anche la giornata ieri qua sembrava inverno oggi c'è un sole che adesso può subentrare anche questo aspetto che può diventare decisivo in certi momenti e quindi a maggior ragione i ricambi sono fondamentali quindi è vero c'è quella coppia che parte ma poi durante la gara ci sono sicuramente quelli che subentrano quindi è proprio un discorso generale che dovrà essere così da qui alla fine Mister rispetto alla partita col Cosenza pensa di cambiare qualcosa in mezzo al campo e vado proprio dritto ha giocato una discreta partita a Zennaro che non è di Molfetta hanno proprio due modi di giocare diversi quindi lo si sa e poi ci si organizza su questa fase può essere che a Pisa possa servire di più giudici che è un po' più fisico anche se meno tecnico di Zennaro? Sono valutazioni che sicuramente stiamo facendo però io ti devo dire la verità a me Mattia come ho già detto e ripetuto a me è un giocatore che piace molto perché ha qualità tecnica e poi alla fine noi parliamo sempre di fisicità e di tutto però poi bisogna lavorare con quello strumento che è il pallone e lui secondo me è un giocatore che ci sa fare quindi noi in questo momento ci viene a mancare un giocatore come Di Molfetta che ha caratteristiche e qualità tecniche di un certo tipo Zennaro è diverso però è un giocatore secondo me che per noi è importante per la qualità che riesce a mettere in determinate giocate quindi ripeto adesso al di là delle ultime valutazioni però credo che Mattia giocherà Siamo orientati quindi sull'undici più o meno della settimana scorsa Per quello che riguarda la partita il Pisa ha dei numeri di possesso palla di tenuta del gioco che sono molto alti voi avete la grande capacità di ripartire vedremo una partita più o meno come quella di Cremona con un Pisa in controllo del gioco e voi che cercate di controllare il Pisa? Sicuramente è una squadra che ha grandi qualità di palleggio giocano insieme appunto dall'inizio hanno sempre impostato un po' tutta la stagione in questa maniera e si vede si vede perché la palla la gestiscono molto bene e quindi sicuramente all'interno della partita ci saranno dei momenti nei quali dovrai subire questo palleggio perché lo hanno subito tutte le squadre contro le quali hanno giocato perché ci sono partite fatte di tanti momenti e in tanti sicuramente loro hanno questa caratteristica sono molto bravi a fare questo a provocarti e poi per poi andare a giocare sui giocatori offensivi quindi bisognerà fare una gara di grandissima attenzione da questo punto di vista è chiaro che se subisci passivamente questo palleggio la palla non la prendi mai quindi è logico che dovremo cercare nel momento in cui la riconquisti di avere un po' di maturità per gestire la palla nella maniera giusta e anche quelle fasi in cui loro hanno questa qualità di palleggio sicuramente non subirlo passivamente ma cercare di farlo in maniera attiva per cercare di rubare palla e quindi per rubare palla devi essere aggressivo con loro e non devi sbagliare i tempi perché se no loro ti puniscono e quindi sarà una partita di questo tipo e come ho detto prima bisogna farlo bene anche questa aggressione perché se no loro ti tagliano fuori e quindi dovremo fare una partita di alto livello Dovete magari più che prendere spunto dal Brescia non prendere spunto dal Palermo che avanti due volte proprio l'arena Garibaldi poi ha perso 4-3 Ma questo fa parte un po' di quello che ci diciamo da sempre soprattutto nelle ultime settimane perché abbiamo detto che le partite non c'è niente di scritto non sono mai finite bisogna giocarsele non bisogna dare per scontato niente perché fino a quando l'arbitro non fischia la fine è veramente tutto aperto perché oltre come diciamo all'aspetto tecnico di quello che abbiamo parlato prima ci sono aspetti anche emotivi che soprattutto in queste partite vanno ad incidere parecchio sull'andamento della gara e quindi ci sarà da lottare per 95 minuti Un'ultima domanda sul rendimento della sua pattuglia diciamo dei vecchietti di quelli che hanno più esperienza della Serie B L'abbiamo un po' analizzato questo percorso per qualcuno è partito anche male penso a Cepitelli penso allo stesso Lamantia che non hanno iniziato la stagione come ci si sperava un po' tutti adesso però in queste ultime partite stanno crescendo è un segnale che loro conoscono così bene la categoria che sanno quando è il caso di incidere maggiormente o è una casualità? No vabbè è una crescita credo che sia riferibile a una crescita costante che ha fatto tutta la squadra e quindi questa crescita è dettata dai miglioramenti individuali di ognuno tra i quali questi giocatori che sicuramente hanno tanta esperienza e quindi l'insieme di tutti questi aspetti ha portato a dei miglioramenti generali della prestazione ovviamente adesso arriva il bello arriva la parte conclusiva dove bisognerà assolutamente dare continuità a questa cosa perché ovviamente adesso c'è da mettere in gioco tutto il lavoro che abbiamo fatto e quindi adesso iniziano le partite quelle toste quelle belle da giocare mi sembra che il Pisa stia segnando da 16 partite consecutive Sì perché come avete detto anche voi hanno un reparto offensivo di primissima qualità soprattutto anche numericamente sono tanti e questo ti consente ovviamente anche quando hai quei periodi durante l'anno che hai anche qualche infortunio ovviamente il numero di giocatori importanti ti consente di sopperire nella maniera giusta a questi periodi che inevitabilmente ci sono durante l'anno quindi come abbiamo detto prima lo sappiamo che giochiamo contro una squadra di alto livello quindi dovremo comportarci di conseguenza grazie a tutti e buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti